Via, 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 madonna santissima, via, per favore, via, Filippo, fuori! Incredibile, di drammatico, madonna! È pazzesco! Incredibile! Correte! 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 Madonna santissima! Guarda come si muove! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Via! Fuori di qui! Ma siete dei pazzi ancora a rimanere! Fuori! 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 Via! Via, via, via! Andiamo qui, andiamo qui! Madonna santissima! Stanno che andando a toccare fuori! Stanno! Via, via, via! Vai, dai, dì, dai, dai, via, via, via! Madonna che sta venendo adesso, ragazzi! Fatte ricevi di qua, qua, qua! Qua, qua, qua! Qua! andiamo via mi ha subito la banca mi ha subito la banca fate sgomberare la zona della banca ragazzi sgomberate dalla zona della banca